Ciao bimbi, oggi raccontiamo una storia e questa storia si intitola Il mio palloncino. Cappuccetto Rosso è molto fiera del suo nuovo palloncino rosso. Perché non vai a mostrarla alla nonna? Le dice la mamma. Sarà contenta di vederti e salutala da parte mia. Un due, un due, un due. Attenta ragazzina, lascia passare il campione, dice il leone. D'accordo, allora io continuo. Passeggio nel bosco mentre il lupo non c'è. Oh, chi va là? Un cinghiale? Un armadio? Un tricerato? Buongiorno signorina, non calpestare i fiori per favore. Sto raccogliendo un mazzolino per la mia topolina, dice l'elefante. D'accordo, allora io continuo. Passeggio nel bosco mentre il lupo non c'è. Perché io lo conosco, ma... E quella che cos'è? Una farfalla? Una cattedrale? La torre Eiffel. No, no, per favore, nessuna fotografia, dice la giraffa. Sono un incognito. Vado via. D'accordo, allora io continuo. Passeggio nel bosco mentre il lupo non c'è. Perché io lo conosco e mi mangerebbe senza un perché. Ancora? Che cosa c'è qui? Un cavallo? Un pianoforte a coda? Un'astronave? Shhh! Non fare rumore. Sono nascosto qui nei dintorni da tre notti e tre giorni, sussurra il rinoceronte. D'accordo, allora io continuo. Passeggio nel bosco mentre il lupo non c'è. Perché io lo conosco e mi mangerebbe senza un perché. Dalla nonna devo andare a... Ah, e questo che cos'è? Un pettirosso? Un innaffiatoio? Un camion dei pompieri? Ehi tu, ragazzina rumorosa, circolare, su su, vai a scappare i gamberetti. Schiamazzano i fenicotteri rosa. D'accordo, allora io continuo. Passeggio nel bosco mentre il lupo non c'è. Perché lo conosco e mi mangerebbe senza un perché. Dalla nonna devo andare e non voglio farmi mangiare. Aiuto, una boccaccia piena di denti, è lui, è il... Accidenti, è il blande pupo gattivo, è il grande rupo gattivo. Chissà cosa sarà successo, il palloncino è volato via. Ciao piccolino, non ti volevo spaventare, mi devi scusare. Sono solo andando al mare, dice il coccodrillo alla bambina, porgendole il palloncino. D'accordo, allora io continuo. Passeggio nel bosco mentre il lupo non c'è. Perché lo conosco e mi mangerebbe senza un perché. Dalla nonna devo andare e non voglio farmi mangiare. Lupo, lupo, dove sei? Eccomi, sono qui, dice il lupo guardandola a distanza. Nessun cacciatore in lontananza, solo io e te. Finalmente ti mangerò, bella bambina, aggiunge il lupo già con l'acquolina in bocca. E con queste parole il lupo si getta su cappuccetto rosso. Pam! Il mio palloncino! Rivolgo il mio palloncino! Rivolgo il mio palloncino! Grazie.